Salve a tutti ragazzi ed eccoci nuovo qui sul mio canale, allora siamo qui oggi con un nuovo video di Heroes of the Storm, finalmente Blizzard ha rilasciato un nuovo personaggio nel roster di guerrieri, insomma di combattenti giocabili in Heroes of the Storm, in questo Mobak molto famoso e molto giocato, non solo da tutti i fan dell'universi Blizzard ma anche dagli altri giocatori, però siamo qui perché Blizzard ha rilasciato questo nuovo personaggio, Liming, un personaggio tratto dall'universo di Diablo, una maga che utilizza i suoi poteri arcani per uccidere i suoi nemici. Allora entriamo subito nella build perché vorrei fare un video non troppo lungo sinceramente, sì perché insomma la build diventa troppo lunga, è difficile da stare dietro e poi farò una build particolare, ovvero farò una build concentrata sul tasto V, ovvero sul globo arcano, poi farò probabilmente un altro video in cui parlerò di un'altra build focalizzata sulle sette magiche, quindi vediamo un po' insieme, allora intanto facciamo questo video. Allora intanto faccio una panoramica sulle skill e sulla passiva, allora partiamo dalla passiva, la passiva si chiama massa critica, praticamente tutte le uccisioni a zero nei tempi di recupero, praticamente se io uccido un nemico a zero tutti i tempi di recupero dell'abilità e questo è molto utile perché se voi siete in una teamfight e avete utilizzato tutte le vostre skill, però con l'ultima skill riuscite a killare il vostro nemico ma ne arriva un altro, voi se avete ancora abbastanza vita avete tutte le skill resettate, tutti i tempi di recupero sono azzerati quindi potete spammare di nuovo per difendervi oppure per scappare. Quindi già questo secondo me è molto molto forte come passiva perché ovviamente ogni volta che uccidiamo, essendo comunque un assassino a distanza, dovremmo uccidere spesso e questa cosa ci permette di avere più controllo di map e più risorse da utilizzare contro i nostri avversari. Poi passiamo alla Q, la prima abilità che è sette magiche, praticamente a recupero di 3 secondi, e praticamente scaglia 3 saette verso un'area, ognuna delle quali infligge 292 danni al primo nemico colpito, vedete? Praticamente vedete a seconda di come muovo, si modifica la traiettoria, più è vicino più si espande verso a raggera diciamo, più il nemico è distante più le saette si uniscono per colpirlo direttamente, vedete? Praticamente scaglia, allora vi faccio vedere, aspettate eh, vi faccio vedere sul nostro simpatico Arthas, vedete? Boom, vedete? Partono 3 saette che colpiscono il primo avversario colpito, cioè il primo, sì, praticamente colpiscono il primo avversario che gli capita a tira, perché se voi lo fate qui, colpisce il primo servitore, o comunque i primi 3 servitori che vengono colpiti. Però se io faccio così, colpisco Arthas. Poi, seconda abilità è Globo Arcano, Globo Arcano ovviamente ha un recupero di 10 secondi, e praticamente come vedete dall'animazione, scaglia un Globo Arcano che aumenta di potenza mano a mano che si muove, quindi più la distanza che copre il Globo è maggiore, più saranno i danni inflitti, fino a un massimo di 813 danni, partendo dal minimo, ovvero al primo step, diciamo, come vedete dai, dalle forme ellittiche che vedete lì, fa 271 danni, quindi vediamolo subito, vedete, se io faccio così, colpisco Arthas, faccio 800-700 danni a seconda del critico e quant'altro. Poi la terza skill è teletrasporto, che vi posso far vedere anche qui, vedete, si teletrasporta a breve distanza, avete un raggio intorno a sé, può anche teletrasportarsi indietro, e praticamente fa un breve blink in una certa direzione, se voi arriva un nemico da questa parte, voi dovete andare di qua, fate così, e se teletrasporta continuate a correre. Questo diciamo che è un buon modo per, questa skill è molto utilizzata proprio in Diablo, però secondo me sarà molto utile anche qui, perché comunque arriva un, non lo so, un personaggio, un nemico abbastanza lento, e voi comunque potete avere abbastanza movimento, abbastanza libertà, spostandovi con questa skill e andando, insomma, al sicuro, ecco. Vedete, queste sono le prime tre abilità che incontriamo, praticamente quindi, setta magica, colo barcano e teletrasporto, più la passiva. Poi, a livello 10 vi dirò anche l'eroica. E intanto però vediamo, insomma, i talenti, i talenti che, secondo me, e da quello che ho visto un po' in giro, possono essere i migliori per la build focalizzata sul globo arcano. Quindi andiamo con il primo. Il primo, io direi che il più, diciamo così, adatto per fare danni, visto che comunque è una build alla distanza, perché avete visto il globo arcano colpisce da distanza, è avido di potere. Perché, ovviamente, i globi rigeneranti forniscono potenza dell'abilità e mana aggiuntivo. Ovviamente, i globi rigeneranti rigenerano il 100% di mana in più e aumentano il 10% la potenza dell'avità per 20 secondi. E 20 secondi, secondo me, non sono pochi. Comunque, prendete un globo rigenerante, spammate le skill, 10% o più di danno. Secondo me è molto utile. Poi, a livello 4, questo è a livello 1, a livello 4 io direi che la migliore è Triunvirato. Triunvirato, perché riduce il tempo di recupero di globo arcano se copre una lunga distanza. Se globo arcano compisce un eroe, dopo aver coperto almeno l'80% della sua portata, il tempo di recupero è ridotto di 7 secondi. Quindi, se voi colpite un nemico a questa distanza qua, praticamente il globo arcano avrà un recupero di 3 secondi. Quindi voi colpite, magari quello sta per morire o comunque torna verso voi, in 3 secondi avete nuovo il globo arcano e lo rispammate. E secondo me, vedete così, voi lo spammate così. E' arrivato all'80%, magari ha preso la torre, ma lasciamo perdere. Però, praticamente arriva, comunque io scegliete, come vedete, Triunvirato. Anche se, anche se, S di Johan non è male, perché comunque globo arcano attira i nemici, sono attirati verso il suo centro, può essere utile, diciamo, per avere un po' più di controllo. Però secondo me questo, per avere un po' più di tempo di recupero e quindi capacità di spammare le skill, secondo me non è malaccio. Quindi io direi Triunvirato. Poi a livello 7, a livello 7, poi dopo vi faccio vedere tutte le nazioni, insomma, le nazioni, i talenti. Io direi Vendetta di Zei. Vendetta di Zei perché? Perché il globo arcano infligge danni aggiuntivi da distanza. Che succede? Praticamente il globo arcano infligge il 25% di danni aggiuntivi ai nemici distanti. Ovvero più i nemici sono distanti, ovvero penso al massimo della distanza, infliggiamo il 25% di danni in più. Tuttavia, questa cosa è un debuff dei danni ravvicinati, ovvero infatti infliggeremo il 25% di danni meno ai nemici vicini. Però abbiamo deciso di fare una build focalizzata sul globo arcano e quindi dovremo giocare, ovviamente tutto dipende dalle mappe e quant'altro, ma dovremo giocare in maniera che la distanza tra i nostri nemici sia maggiore possibile. O comunque la distanza del globo arcano, mettiamola così. E quindi io direi che la vendetta di Zei può essere utile appunto per avere questo buff di 25% di danni ai nemici distanti. Secondo me può essere utile. Poi vedremo, insomma, nell'altra build cosa sceglieremo. Ecco, poi siamo all'eroica. L'eroica io direi disintegrazione in questo caso, perché comunque vogliamo mantenere una certa distanza. Disintegrazione lo vediamo qui. La gente incanala, come vedete, un raggio. Un raggio, abbastanza lungo, che copre una bella distanza. Incanala un potente raggio che infligge 1169 danni in 2,5 secondi ai nemici finché li colpisce. La direzione del raggio segue la posizione del cursore, quindi ovviamente noi possiamo utilizzarla e direzionarla come vogliamo con il cursore. In più, ovviamente infligge 1169 danni in 2,5 secondi, quindi infligge parecchi danni e comunque ci mantiene safe perché siamo a distanza. Poi io direi, questo era il livello 10, il livello 13, io direi, quello avevo scelto, scusate. Allora, potrebbe essere illusionismo, potrebbe essere utile perché stendere il 50% la portata di teletrasporto. E potrebbe essere utile. Ah, e a 0 all'istante il tempo di recupero se Li Ming perde più del 15% di salute in una volta sola. E l'effetto può attivarsi fino al massimo una volta ogni 4 secondi. Però io direi che in questo caso, essendo sempre a distanza, io direi che Cannoniera è la cosa migliore. Perché praticamente ci dice che usare un'abilità aumenta del 75% i danni del successivo attacco base. Li classifica come danni d'abilità. Si accumula fino a 3 volte. Praticamente ci permette di aumentare del 75% di danni ogni volta che utilizziamo l'abilità. Quindi se usiamo l'abilità e poi usiamo un attacco base, il prossimo attacco base infliggerà il 75% di danni in più. Ma magari, che ne so, arriva a fin di vita quello, non avete più skill in quel momento, lo uccidete con un attacco base che ha il 75% di danni in più. Quindi è utile per, diciamo così, finire i nemici con gli attacchi base. Poi al livello 16... Scusate, sto morendo. Al livello 16, io direi che la migliore è Orbita Arcana. Che estende nel 25% la portata di Globo Arcano, infliggendo fino al 25% i danni aggiuntivi. Questo perché, vedete, con Orbita Arcana, estende l'area. E nel punto più lontano, l'area, cioè, in quell'area, il Globo infligge il 25% in più di danni. Quindi è un buff, secondo me, molto importante a questa skill, la quale, insomma, ci siamo, cioè, sulla quale ci siamo focalizzati in questa build. Quindi, oltre a, appunto, aumentare la portata del 25% aiuta, cioè, ci permette di infliggere anche il 25% di danni aggiuntivi. Poi arriviamo al livello 20. Alla livello 20, solitamente, ogni tanto, si usa la... insomma, l'eroica, il potenziamento dell'eroica. Però, in questo caso, secondo me, non è così utile. O meglio, sì, può essere utile, perché, comunque, flusso temporale, disintegrazione, rallenta i nemici. Quindi, quando voi spammate la R, ovvero l'eroica, rallentate del 60% i nemici. E questa cosa è molto utile, comunque, per un discorso di crowd control, diciamo, per il controllo della massa, insomma, durante i match. Però, io userei, secondo me, è molto utile anche elementi di tar rush. Usare diverse abilità in successione fornisce potenza dell'abilità. Le abilità infliggono il 20% di danni aggiuntivi se non vengono usate per due volte di fila. Quindi, se io uso Q, V, E, o comunque E, V, Q e poi R, le skill infliggono il 20% di danni in più. Che, comunque, è un buff, secondo me, molto importante alle skill. Quindi, io direi che elementi di tar rush può essere molto utile. E ora vediamo un attimo in azione questa build. Anzi, ripristiniamo le strutture, ragazzi. Un secondo, velocemente. Ripristiniamo e facciamo ritornare il nostro simpatico Arthas a full vita. E vi farò vedere come gira questa build e quanti danni fa, ovviamente, riuscendo a fare le cose giuste come dovrebbero essere fatte. Per esempio, io sono qui, utilizzo la E, tanto non c'ho pericolo, e spammo questa. Vedete quanti danni faccio? Comunque, con tre spam, ho fatto il... E poi non l'ho neanche... Se io faccio così, vedete, 1030 danni. Il globo arcano fa 1030 danni, che secondo me sono un macello. Cioè, se voi siete a distanza, voi siete qua, e qui c'è la team fight, e voi spammate il globo... Cioè, chi colpisce... Se anche fossero a metà vita, o comunque, li togliete 1000 danni a livello 20, questo ovviamente. Però, se io faccio così, mi avvicino, boom, mi allontano, e poi faccio così... Vedete che comunque riesco a fare parecchi danni? Attivo il raggio, lo seguo, e non l'ho killato per un pelo. Per un pelo. Non perché non c'erano danni, ma perché comunque c'erano parecchi servitori nel mezzo. Quindi pensatela, una team fight dove non ci sono servitori in quel momento. Voi siete magari con un tank davanti a voi, però io faccio così. Vedete, 925 di danno. Secondo me è molto... Ed è molto utile, secondo me questa build, visto che comunque è AOE, è molto utile per ripulire... ...le ondate. Se io, per esempio, faccio così... Vedete, non l'ha ucciso, non capisco perché, però... Vedete che... Poi, vedete, qui si attiva la passiva... ...che appunto mi permette di... ...di ripristinare tutte le skill, di azzerare tutti i tempi di recupero. Però vedete, se io faccio così... ...quando colpisco, apparentemente ho spazzato via tutta l'ondata. Quindi, insomma, diciamo che secondo me questa non è una build malvagia. Ovviamente bisogna provarla. Io, purtroppo, vi dico la verità, non l'ho provata in... ...in un gameplay perché non l'ho ancora acquistato, Li Ming. Però penso che potrei acquistarla perché mi sta piacendo, almeno in questa prova. Mi sta piacendo. Ora, non so se aspetterò che si abbassi a 10.000 gold invece che 15.000. Però vediamo questo. Vedete, spammo il globo. 1129. Vado nel mezzo. E l'ho ucciso. Cioè, non riesce a scappare perché anche se... ...anche se cambia il range. E poi, vedete, è riazzerato il tempo di recupero. Cioè, anche di questa skill che comunque ha un recupero di 20 secondi... ...che è abbastanza breve. Tutto sommato. Però... ...è abbastanza breve. Perché è vero, 20 secondi è breve. Però azzerandolo, voi, se c'è un altro nemico che sta morendo... ...e non uccidete uno, lo azzerate e lo spammate subito. Ed è molto forte, secondo me, questa cosa. Vedete, qui infligo molto meno danno. Vedete? Vedete? Vedete il successivo attacco base con la passiva? Che fa 207 danni. Allora, per esempio, lui è lì e faccio così. Non l'ho ucciso perché ha preso anche le torri. Anzi, probabilmente ha preso la torre. Non è che ha preso anche le torri. Però, vedete, è lì. Faccio così. Non l'ho ucciso. Tuttavia, con questa skill diciamo che abbiamo un controllo abbastanza importante della mappa. Quindi, io direi che possiamo finirla qui. È stata una prova veloce per farvi vedere un po' come funziona. Poi ho detto, la proverò in partita se acquisto il personaggio. Ricapitoliamo velocemente. Allora, livello 1, avido di potere. Per aumentare la rigenerazione del 100% di mana e aumentare il 10% della potenza dell'abilità per 20 secondi. Quando prendiamo un globo rigenerante. Poi, Triunvirato. Che riduce il tempo di recupero del globo arcano se copre una lunga distanza. E quindi lo riduce di 7 secondi. E non è male, secondo me. Poi, Vendetta di Zeke aumenta i danni inflitti a distanza. Ma riduce quelli ravvicinati del 25%. Purtroppo, proprio detto, questa è una build a distanza. Poi, Disintegrazione, appunto, per mantenere il range tra noi e il nostro avversario è abbastanza ampio. Cannoniere, perché aumenta l'abilità che potenzia gli attacchi base. E poi, Orbita Arcana, che stende la portata di globo arcano del 25% e aumentando i danni inflitti del 25% nel cerchio massimo, diciamo. La distanza massima coperta dal globo arcano vengono aumentati i danni del 25%, che è molto utile. Vedete, io qui, se faccio così, non prenderò tutti i danni. Però ne faccio comunque 1060. E poi, come ultimo, a livello 20, elementi di tarrascia. Ovviamente qui potete anche scegliere il flusso temporale a seconda dei nemici che avete e della mappa in cui vi trovate. Insomma, vedete voi, questo va un po' valutato, lo vedremo anche insieme nelle mappe se facciamo qualche partita. Però elementi di tarrascia, ovviamente, che usare diverse abilità in successione fornisce potenza dell'abilità. Il 20% di danni in più per ogni abilità non usata nello stesso momento, capite? Quindi io direi che, ragazzi, questa build, poi, come vi ho detto, farò qualche partita. Questa build finisce qui. Spero vi sia stata utile. Spero la utilizziate. E come sempre vi invito a lasciare un mi piace, un commento con le vostre opinioni, con la vostra build personale o la build che avete visto su internet. Vi invito anche a iscrivervi al canale, ovviamente. E come sempre vi ringrazio. Ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.